E poi ci vengono qui dicendo che si scalano gli scontrini, ma quali scontrini che sono tutte cifre inventate con appartamenti di 2.000 euro! Ma chi vive con un appartamento di 2.000 euro? Ma avete pazienza e basta con questa demagogia! Presidente, ma lo sa che a Livorno sono riusciti a rimettere rimborsi spese per la benzina degli assessori? Erano 30 anni che non c'erano i rimborsi spese per la benzina degli assessori!